Buongiorno a tutte e tutti. L'obiettivo di questo video è quello di mostrare come si può creare e gestire un virtual environment di Python su tre diversi sistemi operativi, Windows, macOS e Linux. In quest'ultimo caso utilizzeremo l'ultima versione di Ubuntu. L'obiettivo, come vi dicevo, è quello di gestire e creare un virtual environment in maniera separata rispetto a quello che sarà il futuro ambiente di sviluppo. In questo video vi farò vedere poi successivamente come configurare un ambiente di sviluppo come PyCharm e dirgli di utilizzare questo virtual environment che voi avete creato precedentemente e separatamente. Darò per scontato che su tutti e tre i sistemi operativi ci sia installato, ci sia già installato Python. Alcune parole però vanno dette per Windows perché il nostro ambiente verrà creato utilizzando un terminale come ad esempio questo. E io ho necessità che nel momento in cui scrivo Python, ad esempio Python meno meno version per vedere la versione che sto utilizzando, il comando Python sia riconosciuto dalla console, dal terminale. Su Windows, quando voi venite qui e scaricate Python, io farò riferimento alla versione che si può scaricare da python.org. Nella sezione download, intanto vedete che la versione più recente è la 3.93, io lavorerò con la versione 3.8, nello specifico la 3.85, ma poco cambia, in realtà potete utilizzare la 3.89. Quando scaricate il file di installazione, ad un certo punto vi verrà fuori questa schermata. È estremamente necessario che prima di cliccare su install now, voi selezionate questa voce qua, add python 3.8 to path. Non è selezionata di default, lo dovete fare. Se non lo fate, non avrete la possibilità di gestire, diciamo, lo script da il command prompt. Proprio del command prompt, adesso andiamo a parlare. Il command prompt è una delle console che potete utilizzare su Windows. Come potete attivarla? Venite qua sulla lente di ingrandimento, digitate command, come vedete vi esce command prompt, la attivate ed avete la vostra console, che è diversa da quella che vedete lì dietro. Adesso vi spiego perché, ma intanto vi faccio vedere che è del tutto equivalente. Anche qui posso andare a invocare python, ad esempio, per vedere che versione è in uso. Questo è il command prompt di Windows, ma non è l'unica console. Infatti Windows ha introdotto PowerShell da già un sacco di tempo. Anche sulla PowerShell python-version, scritto sbagliato, python-version, funziona e vi restituisce la versione python. Insomma, sono due console differenti. La PowerShell è più recente, il command prompt è un pochettino più vecchio. Io farò riferimento al command prompt. Accederò al command prompt non, come vi ho fatto vedere, ma tramite una terza applicazione, che si chiama Windows Terminal, che non è installata di default, che potete, se volete, scaricare dallo store di Microsoft, che mi permette, in un unico ambiente, di accedere sia al command prompt che alla PowerShell. Se io avessi necessità di una PowerShell, non ho necessità di aprire un nuovo programma, e me la trovo, diciamo, nello stesso software, come semplice tab ausiliario. Quindi adesso la chiudo ed ora in avanti farò riferimento al command prompt. Benissimo, apro anche un file explorer. Questo file explorer è posizionato sulla mia cartella utente, esattamente come questo terminale. Adesso vi faccio vedere con il comando dir, che qui vediamo esattamente le stesse cartelle che vediamo dentro questo Explorer Resource. Per cui l'obiettivo adesso è andare a creare una cartella che conterrà i nostri virtual environment. Lo possiamo fare da questa parte, con il classico nuovo new folder, oppure lo possiamo fare direttamente dal terminale, ed è quello che farò io col comando mkdir, make dir. La chiamo pyenv, vedrete che a destra compare la cartella, eccola qua, entro qua dentro, la cartella è chiaramente vuota, entro dentro la cartella col comando change directory, quindi cd pyenv, anche in questo caso la cartella è vuota, siamo pronti, faccio un cls per pulire lo schermo, per creare il nostro primo ambiente. Come si crea? Con il comando python-m, venv, nome dell'ambiente. Dunque qui il nome dell'ambiente tipicamente richiama le operazioni che volete fare con quell'ambiente. Se c'è un progetto di laboratorio lo potete chiamare lab, se c'è un progetto di simulazione numerica lo potete chiamare numerical, in questo caso stiamo facendo un test e io lo chiamerò test. Nel momento in cui darò invio, qui vedrete comparire la cartella test. Compare la cartella test, il command prompt sta ancora lavorando, perché sta popolando questa cartella con una serie di sottocartelle e file. Ecco che ha finito, andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Ci sono una cartella include, lib, scripts, e quest'ultima è di nostro interesse, perché qui dentro abbiamo l'interprete python che possiamo utilizzare quando attiveremo questo virtual environment, pip che è il gestore di pacchetti di python per installare i moduli che ci servono, activate e deactivate che sono i comandi che ci servono per attivare e disattivare l'ambiente. Per cui adesso ci portiamo dentro questa cartella, abbiamo detto che se facciamo dir, adesso vediamo la cartella test, quindi cd test, facciamo ancora dir, vediamo la cartella include, lib e scripts, quindi andiamo dentro script, pulisco, faccio dir, e vedo tutti questi file che sono presenti anche qua dentro. Per cui se adesso vado di activate, date un'occhiata a cosa succede qua all'inizio della riga, ecco che compare la dicitura test tra parentesi. Questo è sinonimo del fatto che adesso abbiamo attivato il nostro ambiente. Se adesso digito python, il python che viene utilizzato è questo, non è il python, diciamo, di sistema che abbiamo installato quando abbiamo installato python. Quindi possiamo qui dentro installare tutto quello che vogliamo senza andare ad intaccare l'installazione di base. Per cui abbiamo capito come creare l'ambiente, come attivarlo, vi faccio vedere come disattivarlo, deactivate, e ora vi faccio notare che il comando activate ha funzionato solo perché eravamo dentro questa cartella qua. Ma noi magari abbiamo necessità di attivare il nostro ambiente da una qualunque altra cartella, dove ci saranno i file del nostro progetto. Possiamo lo stesso farlo andando a digitare tutto il percorso completo, che è c, user, nome utente, nel mio caso Luca, pyenv, nome dell'ambiente, in questo caso test, e infine scripts e activate. Come vedete gli ho dato tutto il percorso, e gli ho dato un percorso assoluto, che punta proprio al file activate che vedete qua dentro. Il percorso lo potete vedere lì, quello è il percorso, diciamo, della cartella che stiamo analizzando, con il file activate. Se do invio, si attiva l'ambiente, nonostante io non sia nella cartella dove c'è quel file. Benissimo. La prima cosa che possiamo fare è pip list, per vedere quali sono i... Ah, un'ultima cosa. Deactivate, invece, funziona ovunque, quindi non c'è bisogno di andare a pescare il deactivate con un percorso completo. Benissimo. Riattivo, facendo ricorso allo storico dei comandi, il mio ambiente, faccio un po' di pulizia, e vado a vedere quali sono i pacchetti con pip list che sono installati nel mio ambiente. Come vedete, in questo virtual environment ci sono solo due moduli, pip stesso e setup tool. Tra l'altro pip non è aggiornato, me lo dice Python stesso e mi consiglia, mi consiglia di fare l'upgrade. Come si fa? Me lo dice lui. Questo è il comando da digitare. Quindi Python, in realtà non è necessario scrivere il punto ex, meno m, pip, install e questo comando è quello che serve per installare un nuovo pacchetto. Con l'opzione meno meno upgrade andiamo a fare l'aggiornamento di quel pacchetto. Per cui se adesso do invio, vedremo una serie di cose e vedremo, tra parentesi qui dentro vedete che è sparito pip perché lui l'ha disinstallato, qui non ci sono più quei file e adesso a breve compariranno i nuovi perché è stato aggiornato. Se faccio pip list, adesso vedrò la nuova versione. Per cui adesso ci troviamo con un virtual environment che non contiene nulla se non la versione base di Python ma isolata dalla versione di sistema. Quindi, cosa facciamo ora? Andiamo ad installare un pochettino di librerie di nostro interesse, ad esempio python-m, pip, install, installiamo, numpy, cpy, mat, plot, lib, e ipython, che è una shell interattiva che utilizzerò per farvi vedere un breve esempio. Ok? Quindi, python-m, pip, install, numpy, shipy, matplotlib, e ipython. Ripeto, sto installando quattro cose solo per fare un esempio. Qui sta prendendo e scaricando tutti i file. Adesso li installa. Io magari metto in pausa e ci rivediamo quando ha finito. Eccoci qua. Ha finito l'installazione. Come vedete siamo tornati al nostro prompt. Ha finito l'installazione. Adesso se facciamo pip list vediamo che sono presenti tutti i moduli come shipy, come numpy, come matplotlib, e come ipython, che abbiamo richiesto, più tutti gli altri moduli che sono di supporto a quelli che abbiamo richiesto noi. Quindi siamo pronti a testare il nostro ambiente. Lanciamo ipython, che vi dicevo è una scella interattiva. Qui dentro possiamo lanciare dei comandi python. Andiamo a importare, ad esempio, numpy, import numpy as np. Andiamo a importare matplotlib, per la precisione piplot, che fa parte di matplotlib come plt. Andiamo a creare un vettore, un vettore x con numeri che vanno da 0 a 9. Poi creiamo un vettore y che è x al quadrato. Quindi il vettore y, come vedete, è x al quadrato. E poi facciamo un plot. Plt plot x y. Lo possiamo fare colorato come vogliamo. Io uso il colore di base, c0, linee, marker circolari. Lui ha fatto il plot, ce lo dice. Non si vede perché non ha ancora fatto il rendering di questo plot, ma è sufficiente fare plt show per vedere comparire il nostro plot. Ecco questa mezza parabola. E direi che sostanzialmente questo è tutto, quasi tutto, nel senso che ora possiamo uscire, abbiamo il nostro ambiente, non so perché sia uscito questo errore in questo momento, faccio un po' di pulizia, vi faccio ancora vedere, prima di passare al successivo sistema operativo, come poter clonare facilmente un vostro ambiente. Ora, così come abbiamo pip list, che vi dà un elenco di moduli installati nel vostro ambiente, esiste pip freeze, per congelare lo stato attuale del vostro ambiente. Ora, io mi muovo dentro la cartella pyenv, ecco adesso sono dentro pyenv, e anche da questa parte mi muovo in pyenv, perché voglio farvi vedere che pip freeze può essere convogliato dentro un file di testo, che chiamo requirement.txt. se faccio questa cosa, qui compare il file requirement, e comparso qui, lo ripeto, perché proprio quello è il percorso da cui ho chiamato pip freeze. se vado ad aprire questo file, il file contiene quello che prima era comparso sul terminale, ok? Bene, supponiamo di voler creare un altro ambiente, che come requisito base, ha tutti, tutti questi moduli. Cosa faccio? Deactivate, poi faccio un po' di pulizia, e adesso python, python, meno m, venv, clone, test, ok? Questo qua è il clone dell'ambiente test. Do invio, qui compare questa cartella, aspetto un secondo che lui vada a popolare, la cartella clone test con cartelle sotto cartelle, lo vedete, si presenta esattamente come era prima. Ok, adesso cosa faccio? Attivo l'ambiente clone test, quindi vado nello storico dei comandi per attivare, eccolo qua, l'unica cosa che devo fare qui è cambiare test in clone test, ed ecco che ho attivato questo ambiente. Con questo ambiente attivato, e nella cartella dove ho il file requirement.tc, vado, beh, intanto vi faccio vedere che pip list mi dà un ambiente che nuovamente si trova nelle condizioni di essere vuoto, solo pip, solo setup tool, eventualmente la prima cosa da fare è sempre python meno m vm, no scusate python meno m pip install meno meno upgrade pip, quindi questo è sempre meglio farlo prima di fare qualunque altra cosa. andiamo ad aggiornare appunto pip e, attendiamo un secondo, pip list, ecco che siamo nelle condizioni di avere l'ambiente vuoto, ma con i moduli di base aggiornati, pulisco, eccoci qua, bene, e adesso andiamo ad attingere da questo file per riempire l'ambiente clone test con tutto quello che c'era in test. Come si fa? python meno m pip meno r, o forse install meno r requirement. Ed ecco che stiamo installando tutto quello che era presente dentro l'ambiente clone. Metto di nuovo in pausa. Eccoci qua, ha finito di popolare l'ambiente. Intanto vi faccio rivedere il comando perché sono andato un pochettino veloce. python meno m pip install meno r requirement, dove requirement era il file che era presente in questa cartella. Ora vi faccio vedere con un pip list che abbiamo riempito questo ambiente con tutto quello che c'era dentro test. Ed eventualmente ora possiamo installare qualcos'altro. Quindi magari questo è il nostro punto di partenza e poi possiamo andare con python meno m pip install, ad esempio, quest'altra libreria numerica che viene installata e viene aggiunta a tutto quello che c'era in, diciamo, nell'ambiente test. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto come creare un ambiente, come attivarlo, come disattivarlo e anche come clonarlo. Ok? E abbiamo visto anche uno script interattivo in IPython. Mi fermo qui, passo al secondo sistema operativo che è macOS, dove vi farò vedere le stesse cose e successivamente andremo a configurare poi un IDE, quindi PySharp, in modo tale che utilizzi questi ambienti. Eccoci qua su una macchina con macOS. La prima cosa che faccio è aprire un finder, posizionarmi nella mia cartella utente in modo tale da farvi vedere cosa succede quando creerò cartelle, ambienti e così via. Apro un terminale, io ce l'ho qua direttamente nella barra laterale, ma se voi non lo avete nella barra laterale potete andare dal launchpad digitando terminal. Ecco che lo trovate qua. Come vedete il mio è un pochettino un pochettino customizzato. Il vostro potrebbe essere un pochettino più più scarno, poco importa. L'importante è che il comando Python sia riconosciuto. Vi faccio vedere che se fate Python meno meno version ottenete la versione 2.7.16 che è quella preinstallata sul sistema operativo proprio perché serve ad alcune routine del sistema operativo. Se voi avete installato Python 3 quello che dovete fare per accedere a Python 3 è digitare Python 3. Ok? Ed effettivamente questo ci dice che è il Python 3.8.9. qui posso farvi vedere qualcosa in più. Ve lo faccio vedere successivamente. Adesso cominciamo a creare qua la cartella in cui sarà presente in cui installeremo i virtual environment con mkdir si fa allo stesso modo pyenv come vedete la cartella è stata è stata creata perché è stata creata lì questo simbolino è il simbolino che vi fa capire che siamo dentro la cartella utente per cui adesso possiamo entrare dentro pyenv ovvero qua dentro dove la cartella è vuota e possiamo andare a creare il nostro ambiente python 3 meno m venv nome dell'ambiente in questo caso l'ambiente è l'ambiente test dobbiamo aspettare un attimino che l'ambiente venga popolato ecco ha finito qui dentro vediamo la cartella include lib e la cartella bin non c'è la cartella scripts qui l'equivalente della cartella script è proprio la cartella bin per cui entriamo dentro la cartella test facciamo ls ls è l'equivalente di dir su windows vediamo che siamo proprio lì dove c'è la cartella bin quindi facciamo cd bin a questo punto pulisco un po' pochettino faccio ls e vi faccio vedere che ciò che vediamo qua è esattamente ciò che vediamo qua activate è di nuovo il comando che ci serve per attivare l'ambiente ma qui prima dobbiamo utilizzare source quindi source activate ed ecco che è stato attivato il nostro ambiente test per disattivarlo deactivate ora vi faccio vedere una cosa se io qua faccio which python 3 lui mi dà il percorso dell'interprete python che utilizza il mio sistema se adesso vado ad attivare il mio ambiente e ripeto which python 3 ecco che l'interprete è quello che sta dentro questa cartella per cui quando siamo dentro il nostro ambiente stiamo utilizzando questa versione di python non solo la cosa bella è che mentre siamo dentro il nostro ambiente attivato non c'è più distinzione tra python e python 3 perché se siamo dentro il nostro ambiente non è più necessario mettere python 3 which python sarà esattamente quello che c'è dentro il nostro ambiente vale a dire che questo python e questo python 3 richiamano l'interprete python che sta dentro il nostro ambiente quindi d'ora in avanti nel momento in cui abbiamo l'ambiente attivato non è più necessario richiamare python con python 3 ma lo possiamo richiamare con python infatti se faccio python meno meno version cosa che prima mi dava la versione 2.7 adesso otteniamo la versione 3.8.9 ok vediamo un attimo dentro questo ambiente cosa abbiamo abbiamo i soliti due pacchetti di cui uno non aggiornato per cui possiamo aggiornarlo come con python meno m pip install meno meno upgrade pip aggiorniamo il nostro pip come vedete qui c'è stato il solito movimento di cui prima faccio un po' di pulizia e vado a ripetere pip list benissimo stesso comando per installare stesso comando di windows per installare nuovi moduli quindi python meno m pip install installiamo gli stessi di prima numpy cpy mat plot lib e ipyton qui parte l'installazione come vedete sta scaricando io adesso metto in pause e tornerò da voi quando sarà tutto finito bene ha finito l'installazione quindi torno alla mia cartella utente per non essere esattamente lì vi faccio vedere una cosa che prima non avevo fatto vedere quindi disattivo l'ambiente deactivate lo posso attivare pur non essendo dentro la cartella bin andando a dare tutto il percorso quindi user luca pyenv test bin e activate pur non essendo io dentro questa cartella perché adesso sono dentro user luca se do tutto il percorso assoluto per arrivare a questo file activate e do invio ecco che attivo l'ambiente test siccome ho installato ipython ma verifichiamolo con un pip list che adesso ci siano tutti i pacchetti eccoli qua ci sono tutti i pacchetti posso lanciare ipython faccio solo un clear per riportarmi lassù importo numpy import numpy as np adesso importo matplotlib as p lt genero il mio vettore x da 0 10 il mio vettore y come x al quadrato vi faccio vedere come è fatto y e poi faccio un plt plot x y magari questa volta lo faccio di un altro colore c1 invece che c0 trattini pallini il plot è stato generato ma non renderizzato plt show ed ecco che abbiamo il nostro plot benissimo esco mi riporto dentro la cartella pyenv faccio un clear disattivo l'ambiente e ora vi faccio vedere anche qui come è possibile clonare test e tra parentesi vi faccio vedere che clonerò il mio ambiente test utilizzando il file requirement che mi sono copiato da windows cioè questo file e il file che ho generato prima sul sistema windows che mi sono precedentemente poco fa o quando ero in pausa ho copiato il file lì dentro vado ad utilizzare questo come punto di inizio quindi come faccio creo con python3 attenzione perché siamo fuori dall'ambiente quindi dobbiamo utilizzare python3 meno m venv e faccio clone test ecco che ha creato la cartella ma non ha ancora finito perché la sta la sta popolando verifico di essere nella posizione giusta per poter richiamare il file requirement attivo il nuovo ambiente clone test quindi source user look apyam clone test bin activate ecco che l'ho attivato e adesso python adesso sono dentro l'ambiente vi faccio vedere che se faccio which python vado proprio a prendere quello che sta dentro questo ambiente qua quindi è sufficiente python meno m pip magari sappiamo già che pip non è aggiornato quindi facciamo install meno meno upgrade pip quindi questa è la prima è la prima cosa da fare pulisco tutto pip list ecco che siamo nelle condizioni in cui abbiamo solo quei due pacchetti e a questo punto python meno m pip install meno r requirement lo invio e partirà l'installazione di tutti i pacchetti che stanno dentro il file requirement conclusa l'installazione è sufficiente un pip list per verificare che effettivamente ci siano tutti i pacchetti che erano presenti dentro il file requirement file che tra l'altro abbiamo creato con un altro sistema operativo e con questo concludo la creazione e la gestione dei pacchetti su macOS quindi ora ci spostiamo su linux eccoci qua su una macchina linux è una versione di ubuntu 20.10 appena appena installata vado al sodo mi porto sulla sulla mia cartella utente aprendo il software che mi permette diciamo di navigare e qui sono appunto nella mia home folder lo posiziono qui qua in punto che potete vedere poi cosa succede dentro questa cartella apro un terminale anche qui io ce l'ho qui a lato ma vi basta aprire il launcher e aprire un terminale in questo modo si apre il terminale eccolo qua siamo diciamo nella stessa nella stessa cartella che vedete lì lo potete vedere qui funzionano gli stessi identici comandi che sul mac quindi ls vi darà esattamente quella roba ora su ubuntu python 3 è preinstallato quindi python 3 meno version e qui ho la versione 3 punto 8 punto 6 ma vi servono due pacchetti aggiuntivi quindi adesso li installiamo sudo apt meno get install python 3 trattino vmv che è proprio quello per gestire gli ambienti e python 3 punto tk che è quello per gestire la grafica quindi per fare i grafici li installiamo metto la mia password utente adesso lui scaricherà questi questi due pacchetti e li installerà io metto un attimo ecco qua appena finita l'installazione quindi faccio un po' di pulizia qui devo creare la mia solita cartella che contiene gli ambienti quindi mkdir by env eccola qua è una cartella vuota ovviamente entro dentro quella cartella e python 3 meno m vmv test qui vedrete che si genera quella cartella dobbiamo aspettare un attimino come al solito che l'ambiente venga creato poi andremo a vedere come è fatto ma in realtà vi anticipo che qui è tutto identico a quello che succede sul mac per cui entrando qua dentro troveremo lib include bin e alcune altre cose ma le tre principali sono queste per cui sostanzialmente noi adesso entriamo in test in bin e questa cartella qua facciamo un list ls e troviamo tutti questi questi file quindi se adesso io faccio which python 3 vedo dove è installato il python di sistema se adesso io faccio source activate e ripeto which python 3 trovo che sono in home luca pyenv test bin python 3 che è quello che sta qua dentro e non solo which python sono sempre lì per cui ancora una volta adesso io posso richiamare semplicemente python 3 python meno meno version scusate ho messo un trattino in meno e sarò sempre dentro dentro quell'ambiente anche in questo caso tornando indietro nella mia cartella utente vedete qua sono i nom luca posso disattivare e posso attivare dando il percorso completo home luca pyenv test bin e activate ed ecco che lo abbiamo attivato una volta che siamo qua dentro funziona tutto esattamente come sul mac per cui pip list aspettiamo di essere nelle condizioni in cui ci sarà pip da aggiornare tra parentesi qui qui no qui è già aggiornato infatti non ricevo nessun warning è già stato installato diciamo la versione più recente per cui è sufficiente python meno m pip install nonpy shipy ipyton e mat plot lib lo invio lui scarica tutto quello che c'è da scaricare e lo installa dentro il mio ambiente di test io adesso metto un attimo in pausa e attendo che l'installazione finisca l'installazione si è conclusa per cui possiamo lanciare ipyton possiamo importare nonpy as np possiamo importare matplotlib punto pi plot as plt generiamo il vettore 10 elementi il vettore y come x al quadrato e poi facciamo un plt plot x y questa volta utilizziamo il colore 2 trattino marker a pallini ancora una volta il file plot è stato generato ma non renderizzato plt plot scusate show per mostrare il grafico ecco qua il nostro grafico esco da ipyton pulisco tutto per completezza vi faccio vedere tornando sulla mia home folder e dentro pyenv ed entrando anche qua in pyenv come fare a clonare questo ambiente per cui se qui io faccio pip prise otterrò un elenco diciamo di pacchetti che sono dentro questo ambiente se io convoglio tutto dentro il file requirement requi scusiamo bene requi rement punto txt come vedete qui è stato creato il file perché io ero diciamo dentro questa cartella pyenv vuole un pochettino adesso faccio clear vado a deactivate il mio ambiente ne genero un altro quindi python3 meno m venv clone test come vedete è stata creata qua clone test aspetto un pochettino il tempo che lui vada a popolare quella cartella attivo quell'ambiente col percorso completo home luca pyenv clone test bin activate ecco che l'ho attivato e a questo punto python meno m pip install meno r file requirement punto t il file io qui me lo sono generato perché non mi veniva comodo copiarlo del precedente file che ho generato su piattaforma windows avrei potuto tranquillamente farlo e con quel file avrei potuto popolare questo ambiente allo stesso modo in cui sto facendo sto facendo ora come vedete sta installando tutti i pacchetti che erano nel precedente ambiente eccoci qua ha finito di installare e quindi con un pip list noi andiamo a verificare che ci siano tutti i pacchetti che abbiamo appena installato dal requirement ed effettivamente è proprio così e questo conclude installazione gestione degli ambienti dei virtual environment adesso andiamo a configurare un ambiente di sviluppo nello specifico vedremo pi charm in modo tale che usi uno di questi ambienti quello che sto per fare ora è indipendente dal sistema operativo per cui lo farò su mac os eccoci qua siamo tornati in ambiente mac os ripeto quello che sto per fare ora vale per un qualunque sistema operativo andiamo a configurare un ambiente di sviluppo nello specifico pi charm edu che io ho già installato quindi vengo qua e lo vado ad eseguire così si attiva l'editor e vogliamo fare in modo che il nostro ambiente di sviluppo vada ad utilizzare uno di questi due virtual environment ecco qua che si sta attivando in realtà io voglio farvi vedere voglio farvi vedere come se lo attivaste per la prima volta per cui se voi diciamo vado qua in manage i the settings e faccio restore default setting restore and restart a questo punto lui si riavvia e si riavvia come se fosse la prima volta che voi lo avviate questa è la versione educational è un pochettino più semplice da utilizzare della versione community ma se siete un po' scafati diciamo io vi consiglio direttamente la versione community quindi adesso si sta avviando la prima volta attendiamo ancora qualche secondo vi chiede se siete uno studente o un insegnante qui clicchiamo pure studente facciamo start using edu tool perfetto a questo punto noi possiamo fare new project oppure open io normalmente faccio open faccio così apro un altro finder e mi porto nella mia cartella utente in questa cartella utente questa volta in maniera vado a creare direttamente dal finder una cartella con my python projects quindi qui dentro ci saranno i miei progetti e ad esempio vado a creare una nuova cartella in cui scrivo project one quello che è e qui dentro ci saranno i miei script python diciamo quello che faccio io normalmente è fare open non l'ha cliccato si l'ha cliccato ok open e vado ad aprire questa cartella quindi abbiamo detto my python project clicco quella cartella e faccio open ecco che si apre pycharm edu lo faccio un pochettino più piccolo che si sta aprendo qui continuate a vedere qui gli ambienti e qui la cartella my python project ecco qui dentro la cartella si è già popolata con un file main.py che conterrà il nostro il nostro script tra l'altro qui ce n'è già anche uno di esempio che io potrei non voler utilizzare e infatti cosa faccio io vado a cancellare tutto e andrò a scrivere un altro programma che programma effettivamente qui mi dà degli errori e gli errori sono proprio legati al fatto che lui non riesce ad utilizzare un interprete python corretto ma adesso noi andremo proprio a sistemare tutto questo pian piano pian piano vi faccio vedere tutto supponiamo di voler scrivere il programma che prima abbiamo scritto in maniera interattiva import numpy as np import matplotlib piplot as plt ora come vedete adesso salvo il file vengono sottolineati in rosso ok? perché vengono sottolineati in rosso perché lui non riesce a riconoscerli non c'è un interprete selezionato adesso vi ha anche dato questo messaggio d'errore per cui fondamentalmente noi dobbiamo associare a questo nostro progetto al progetto 1 uno di questi due interpreti in cui abbiamo installato numpy e matplotlib altrimenti non ci sarà verso di poter eseguire il nostro programma come si fa tutto questo? andiamo su PySharp preferences ok? nelle impostazioni qui si apriranno delle impostazioni in cui c'è il nostro progetto il progetto 1 clicchiamo questa frecciolina e andiamo sull'interprete come vedete qui vi dice che l'interprete non è valido a voi potrebbe esserci magari un interprete di python base selezionato che però non è come dire quello che volete utilizzare per cui qui andate nel menu e non c'è null'altro allora cosa fate? con questa rotellina potete fare add a questo punto avete la possibilità di crearne uno quindi anche PySharp direttamente può creare un ambiente ma noi l'abbiamo già creato e quindi andiamo su existing environment andiamo su questi tre pallini user Luca come vedete vi basta andare a cercare l'interprete che avete creato quindi siamo dentro PyEnv test bin e andate a beccare python nel momento in cui gli date ok lui ha trovato il vostro interprete il consiglio è di selezionare questa cosa qua make a viable to all project in modo tale che la prossima volta che creerete un progetto lui sarà già lì bello e pronto per poter essere utilizzato date ok e come vedete lui adesso trova il vostro ambiente taste python 3.8 e qui vi darà la lista di tutti i moduli che sono installati nel vostro ambiente vedete qui ci sono un certo numero di moduli tra cui numpy, cpy, matplotlib e di conseguenza adesso quando date ok qui dovrebbero scomparire questi errori perché numpy adesso dovrebbe essere riconosciuto in realtà non è ancora riconosciuto perché lui sta lavorando qua vedete che c'è una barra di progressione questa barra sostanzialmente sta facendo l'aggiornamento di tutte le informazioni che sono dentro il vostro interprete e quando avrà finito diciamo di lavorare su questa barra questi messaggi di errore scompariranno ecco appena finito di lavorare come vedete non compaiono più gli errori adesso vedete che queste linee sono in grigio perché sostanzialmente non le avete ancora utilizzate questo è il suo modo di dire hai importato una libreria ma non le hai ancora utilizzate adesso noi andremo ad utilizzarle in questo modo x np a range 10 vedete che la prima si è colorata perché l'abbiamo utilizzata y uguale x al quadrato e infine plt plot x y qui utilizziamo ancora un terzo colore e alla fine un plt show bene nel momento in cui salviamo il nostro file compare questo tastino verde se premiamo come vedete execute main quindi andiamo a premere il tastino qui si apre un terminale che è integrato dentro file charm ed ecco ed ecco il nostro grafico ok quindi abbiamo configurato un editor un ambiente di sviluppo che va ad utilizzare il nostro virtual environment l'ultima cosa che vi faccio vedere è che se chiudete questo progetto quindi close project poi lo trovate nella lista dei progetti recenti supponete di volerne creare un altro quindi veniamo qua e facciamo un progetto project to ok vado a fare open quindi clicco su open io normalmente non uso new project ecco ma siete liberi insomma di esplorare queste funzioni my python project project 2 lui si apre nuovamente sta creando un workspace nuovamente qui mi inizializza un file main ecco nuovamente non c'è un interprete quello che volevo farvi vedere è che se adesso andiamo su pycharm preferences e andiamo su progetto 2 su questa frecciolina che andiamo ad espandere e andiamo a selezionare l'interprete ora qui dal menu a tendina siccome abbiamo messo precedentemente make a viable to all project possiamo selezionare direttamente python 3.8 dare ok e avere direttamente il nostro il nostro ambiente senza dover rifare esattamente tutte le cose che abbiamo fatto in precedenza come prima qua vedete che lui sta sostanzialmente facendo un po' di lavoro per andare a riconoscere tutto quello che c'è dentro il vostro ambiente e se vogliamo fare un altro esempio import numpy as np import mat come vedete adesso che lo sto scrivendo dopo aver già importato l'ambiente mi dà anche i suggerimenti quindi py plot as plt facciamo qualcosa di diverso da prima quindi np a range facciamo sempre diciamo il nostro 10 y facciamo un np random random 10 plt plot x y senza dirgli assolutamente nulla plt show e a questo punto possiamo eseguire il nostro il nostro programma una volta cliccata su questa frecciolina verde lo so cliccato sì adesso ho cliccato si apre il terminale integrato e arriverà il nostro il nostro grafico che è un grafico tutte le volte che eseguiamo questo programma il grafico sarà differente perché qui abbiamo utilizzato la funzione random ed ecco che abbiamo un nuovo progetto che utilizza sempre questo ambiente bene direi che è tutto in sintesi abbiamo visto come creare ambienti virtual environment su windows su mac os su linux e poi abbiamo visto come configurare py charm perché usi questi ambienti e con questo è tutto stop Grazie a tutti.